Buonasera Castiglioni Fibocchi e benvenuti a Castiglioni's Got Talent! Iniziamo la serata in modo spumeggiante con la sigla del nostro show che è la canzone dei nostri amici, il nostro gruppo rock Union Rings, la canzone si titola Hot Drunk, scusate l'inglese ma non so manco l'italiano. Hanno radunato tutti i talenti del borgo ma non solo, per uno spettacolo imperdibile è infatti sbarcato per la prima volta a Castiglioni Fibocchi nei giardini di via Don Luigi Stuzzo Castiglioni's Got Talent, spettacolo organizzato dall'associazione L'Ottava Torre. Una serata dai giovani castiglionesi per tutti i castiglionesi e non solo, per tutti che vuole chiamare anche chi ha voglia di ripartire in qualche modo in tutta sicurezza, è una serata in cui dei giovani si metteranno alla prova con i loro talenti, ognuno con le sue peculiarità e siamo contenti come associazione L'Ottava Torre di poter offrire questa occasione ai giovani e questa occasione al paese e alla zona di passare questa serata insieme. È un varietà in cui appunto troveremo diversi tipi di talenti, si va dal canto al ballo fino addirittura a un ventiloco che è venuto da città di Castello appunto per supportarci in questa nuova esperienza in cui ci siamo buttati come appunto associazione.